Buonasera al Teatro Comunale di Bolzano, protagonista il coro Dore Mix. Il coro Dore Mix è nato nel 1996 della scuola Manzoni e Foscoro e il cantautore Bolzano Andrea Maffei in trio con Elena Congi e Giorgio Mezzalira hanno offerto un viaggio nel tempo attraverso i successi dei cantautori italiani per far capire che la musica evolve ma si esprime ad alti livelli in ogni epoca senza creare barriere tra i cosiddetti cantautori storici e i nuovi esponenti della canzone d'autore. Noi accogliamo bambini dalla seconda elementare alla terza media Quindi i bambini si confrontano con compagni e con amici di età diversa quindi non è come fare musica in una classe e poi sicuramente facendo parte di un coro aumenti la tua capacità di attenzione, di memorizzazione secondo me cantare in un coro è proprio una medicina. A dirigere i 56 bambini è Eufemia Femia e Stefano Soligo che curano a quattro mani gli arrangiamenti dei brani e delle musiche. Le difficoltà che abbiamo trovato soprattutto in questi ultimi anni è stato proprio il post pandemia il post pandemia ha creato delle difficoltà a volte di concentrazione, a volte di riuscire a mantenere a dare sempre motivazioni ai bambini del coro, ai oltre 50 bambini del coro e questa è stata forse la cosa più difficile di questi ultimi due anni. La cosa bellissima è vedere come i bambini crescendo sviluppano proprio l'arte di cantare e quindi sentiamo delle voci che all'inizio erano proprio diciamo così grezze diventare proprio delle voci intonate, precise. La serata era offerta libera, l'intero incasso sarà destinato alla protezione civile della regione Emilia-Romagna colpita dalla recente alluvione.